Quali sono le cause dei tumori cerebrali? Un tumore cerebrale è una crescita normale di cellule che diventano una massa solida, si sviluppano all'interno del cranio o del canale spinale centrale e possono essere cancerose o benigne. Sebbene le cause dei tumori cerebrali non siano chiare, molti fattori di rischio potrebbero essere la causa di questo problema medico. Si ritiene che età, sesso e razza abbiano un ruolo nello sviluppo dei tumori cerebrali, come l'esposizione a determinate sostanze e tossine ambientali, le scelte di vita e le abitudini. Alcune delle cause primarie dei tumori cerebrali sono inevitabili. Ad esempio, gli uomini hanno maggiori probabilità di sviluppare determinati tipi di tumori cerebrali rispetto alle donne. In generale, i caucasici hanno maggiori probabilità di sviluppare queste crescite anormali rispetto ad altre razze. L'età può anche essere un fattore di rischio, in quanto la maggior parte dei tumori cerebrali viene rilevata in persone di età inferiore agli 8 anni e di età superiore ai 70 anni. Nonostante questi fattori, i tumori cerebrali possono verificarsi in persone di ogni ceto meno frequentemente. L'ambiente è un'altra delle cause più comuni dei tumori cerebrali. L'ambiente di lavoro è un esempio di questo. Ad esempio, chi lavora con la plastica può essere esposto al cloruro di vinile, mentre le persone che lavorano nell'industria nucleare sono a volte esposte a radiazioni eccessive. I patologi e gli imbalsamatori sono frequentemente esposti alla formaldeide e gli operai tessili spesso entrano in contatto con l'acrilonitrile, un ingrediente importante nel tessuto acrilico. In dosi molto piccole, la maggior parte di queste sostanze non è considerata dannosa, tuttavia l'esposizione a lungo termine a una qualsiasi di queste sostanze chimiche può causare lo sviluppo di tumori cerebrali. Sebbene meno comuni, diverse cause genetiche possono anche causare tumori cerebrali. In alcuni rari casi, queste escrescenze possono essere il risultato di una storia familiare di tumori cerebrali. La maggior parte dei casi relativi ai geni, tuttavia, sono causati dall'ereditarietà di alcuni disordini genetici. Ad esempio, coloro che ereditano la neurofibromatosi sono a rischio maggiore di sviluppare questi tumori. Altre condizioni pensate per aumentare il rischio di tumori cerebrali includono la sindrome di Turcot e la sclerosi tuberosa. Anche se c'è disaccordo, alcuni ritengono che certe cause di tumori cerebrali possano essere correlate a stile di vita, storia di salute o incidenti. Ad esempio, i fumatori di sigarette sono considerati a maggior rischio di sviluppare queste escrescenze. Anche quelli con virus dell'immunodeficienza umana e quelli che hanno subito un trauma cranico sono a rischio.